Eccomi a scuola, come ogni mattina. Mio fratello me lo diceva sempre che mi sarei trovata bene qui. La mia curiosità, la mia voglia di conoscenza ogni giorno trovano soddisfazione. Devo ancora imparare tanto, ma scopro sempre cose nuove, stimolanti. Ritrovo i miei amici ogni mattina e insieme condividiamo un percorso di studi e di vita. L'Istituto Blaise Pascal nasce nel 1980 e dal 2000 siamo in questa nuovissima struttura in Via Napoli. Comprende tantissimi laboratori di informatica, audiovisivo, linguistico, chimica, flip-head classroom. Abbiamo anche aule attrezzate per la simulazione di impresa, di alternanza scuola lavoro. Abbiamo anche palestre, la palestrina piccolina dove si fa anche aerobica e tante altre strutture presenti nel nostro istituto. I due indirizzi che offre Lita e Pascal sono AFM, Amministrazione, Finanza e Marketing, e nel triennio SIA, Sistemi Informatici Aziendali, e Informatica e Telecomunicazione, il nuovo indirizzo che da due anni è presente presso il nostro istituto. I laboratori di informatica sono adatti non solo per l'apprendimento della disciplina in sé per sé, ma anche per la conoscenza di applicativi, per lo studio di software e anche un laboratorio in cui i ragazzi possono capire materialmente come è composto un PC. Infatti, un laboratorio di hardware dove i ragazzi possono fisicamente accingersi al montaggio e allo smontaggio dei computer, oltre alla elaborazione di software o di applicativi che possano poi permettere di gestire determinati progetti, sia interni, sia curricolari che extracurricolari. Abbiamo tantissime strutture, anche la Flipped Classroom, dove c'è una innovazione didattica. Gli alunni, invece di apprendere la nazione dal docente, la costruiscono insieme al docente. La casa di Blaze è la casa che accoglie i nostri alunni diversamente abili. È una casa in cui possono imparare a cucinare, a rassettare, a stirare e a pulire. Sono coadiuvati dai nostri docenti, da un team di sostegno, del Dipartimento di Sostegno, veramente forte, collaborativo e coeso. I nostri ragazzi si avvicendano e tengono laboratori durante tutta la settimana. Poi abbiamo ancora tutte le aule con lavagne interattive, dove è possibile una didattica informata e aggiornata. E in più abbiamo la Biblioteca e il nostro Auditorium, dove si svolgono tantissimi convegni, tantissime iniziative di formazione per i ragazzi, conferenze e anche videoconferenze. Da moltissimi anni viene realizzato qui all'interno della scuola un giornale cartaceo, poi è seguito un giornale online, poi sulla piattaforma di YouTube abbiamo costruito la nostra redazione video. Pertanto il giornale oggi ha un corredo informativo molto importante, è conosciuto il nostro sottosopra sul territorio foggiano e ha vinto anche numerosi premi nazionali, Ordine Nazionale dei Giornalisti, Albo Scuole e tanti altri premi. Al Pascal si studiano tantissime materie, si studia informatica, si studia italiano, si studia economia e anche con nuovo indirizzo le materie dell'informatica più spinta. Il Pascal è l'istituto che dirigo da ormai 4 anni, è un istituto importante che sta crescendo, che è una concentrazione di studenti, di docenti, di persone alleata che vivono bene, che portano i nostri alunni a raggiungere, oltre il successo formativo, a raggiungere degli obiettivi importanti nella vita. Prima di tutto crescono, stanno bene insieme, vivono serenamente gli uni con gli altri e alla fine del loro percorso didattico possono accedere a parte a qualsiasi facoltà universitaria, ma anche al mondo del lavoro. Abbiamo un feedback positivo dei nostri ex studenti perché hanno ricoperto dei ruoli importanti o perché hanno raggiunto nell'ambito dello studio universitario delle vette molto alte per la loro formazione. Essere studenti quindi al Pascal significa ovviamente studiare, ma si affianca all'attività ordinaria della didattica, anche numerosi progetti che corredono l'alunno di una formazione anche sociale importante in questi tempi. I nostri ragazzi sono partecipi, sono vivaci. I nostri, che diventano i miei ragazzi, il mio personale ATA, i miei docenti. Questa è la mia scuola, è la scuola che voglio dirigere, che dirigo con grande onore, anche con tanti sacrifici, e che vorrei possa essere un punto di riferimento per i nuovi alunni, per coloro che si avvicenderanno presso le nostre strutture, presso i nostri laboratori, la nostra palestra e tutte le strutture che possiamo mettere a disposizione dei nostri studenti. Iscriversi al Pascal significa scommettere con se stessi, significa assicurare un successo possibile per i nostri ragazzi, per il nostro territorio. Studio, formazione, docenti, inclusione e tanta voglia di lavorare e fare insieme. L'ultimo passo della ragione è il riconoscere che ci sono un'infinità di cose che la sorpassano. Blaise Pascal Questi sono i miei luoghi, le mie persone, la mia scuola. Grazie a tutti.